Che cazzo è? Per i che si chiama Space Elevator Ma che stracazzo è? Eeeh Salve a tutti e ben tornati in questo nuovissimo episodio di Satisfactory Allora Ho fatto una cosetta da solo Che era Nel tier 1 Questa qua Object scanner NAT Che praticamente però questo coso va ancora sbloccato Allora io volevo sbloccare la chainsaw Perché voglio andare a fare Il biomass burner E quindi possiamo creare il biomass con la legna E ancora io non ho capito Quindi quelli per ora Mi devono andare da soli Cioè non devo fare io avanti e indietro Qui Ho Modificato tutto quanto Cioè come vedete Ho modificato davvero tutto Ora vi faccio fare un piccolo giro Allora qui come sempre c'è il ferro Che tra l'altro Devo aspettare che lì lo prenda E qui c'è Il copper Quindi Qua ci sono questi due L'ho dovuto far fare questo giro Perché se lo mettevo uguale a questo Non c'era lo stesso spazio Quindi Passa Ho messo l'affare che Li prende Li prende da tutte le parti Ed esce solo da una Da una Quindi posso unire fino a tre Di questi Non mi manca tipo il buco al centro Che mi va dentro Allo storage Quindi quando qui è pieno E tutto sarà pieno Perché poi La roba esce Si va a craftare qui E i copper wire Vanno lì Quindi quando poi tutto sarà completo Noi ritroveremo questi storage Completamente pieni Uguale ho fatto di qua Praticamente a questo di noi ho fatto uscire Entrambi Che vanno in uno solo storage Che poi si splittano E vanno entrambi Uno a fare sia i plate E uno a fare sia I pole I rod I rod E qua quindi Ce li ritroveremo Ora A me servivano Un po' di questi Teoricamente Così siamo a posto E mi servivano 200 di codesti Qua Però non mi bastano Quindi me ne faccio Alcuni a mano Perché c'ho ancora Un po' di roba Quindi posso farmele Senza problemi A mano Quindi Andiamo di qua E posso usare questo 200 di questi E 200 Oh cazzo Sono a 195 Ok Ora spero di non dover Rimodificare tutto Perché Eh Neh E' stata un po' lunghina Come cosa Ok Bam La lanciamo Mamma mia Con quale forza E poi parte Yeah You are now capable Of removing foliage That consists primarily Out of wood Yeah Yeah Quindi Ora voglio subito Anzi no Perché mi manca la roba Allora La cinza teoricamente La faccio da qui Giusto Yes 160 Ah ok Sì Quindi io devo aspettare Di avere qui Un po' di roba Perché è piuttosto Lentino A craftarla Ehm Questi Non mi ricordo Di aver visto Quanti me ne servono 160 Ah La faccia Del cazzo E vediamo Se ce la possiamo Fare No Mi mancano I plate Ah no Mi serve Unirai In forse Da C'è il barbatrucco Ok Dovremmo aver tutto Giusto Yes Scenso Voila 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 Oh no Oh no Oh 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 Merda 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 E niente Io ogni volta Faccio sempre I super fail Ora io mi costruisco Di già il bio mass bar Me lo faccio qui accanto Era tipo dritta qualcosa Non so cosa però Così Ok Quindi Ok Semplicemente Io rascibuto Dentro la roba Lo posso Collegare Benissimo Qui Quindi si collega Tutto l'impianto Press E Io butto Questo Oh Ok Ah Mi crea La stessa Cosa Ah ok Questo Consuma 20 Capacità 60 E questo La capacità E 20 Giusto Ah no Capacità 60 Vado A Ok E' finito Che lo devo andare a riprendere Che pale però sta cosa Dovrei riuscire a farlo super automatizzato Maddio Santissimo Non so come Creare il nodo Forse A forza di consumarlo Diventerà un nodo Forza di consumare il deposito Sopra Boh Spero che questa teoria Sia una giusta teoria Allora Lo metto subito qua sopra Messo in quello giusto Yes Probabile Non lo so Questa io l'ho messa Qui sopra Perché Non so Ero nella speranza Che mi prendesse Quello puro Ma Invege no Buono Già vi abbiamo detto Che qua su c'era un affare Che si vedeva Che lo controllavamo In questo episodio Ora ci vado così qua Prendo un pochettino Di legna attaccata Che non vorrei dire Una cazzata Ma qui potrebbe Continuare a spawnarci Questa legna Sopra Le cose Aiuto Eccoci qua Oddio Non mi sono fatto male Che culo Allora Ok Salto di qua Salto di qua Salto qui Eh eh Di qua Devo saltare qui Perfetto E si sale qua E non prendere Il legno Ok Creo dell'altro Biomasso Perché Oh Quanto ne posso fare Ottimo E mi ci riempio Questo Poi ci sarà qualcosa Sicuramente Che lo creerà Da solo Perché non Credo che con Gli assembler Con i constructor Qua Mi possa creare Il biomass E invece Invece si Questo lo possiamo No Questo non lo possiamo Esaminare Quindi lo teniamo qui A prenderci spazio Allora Dobbiamo Riprenderci Il ferro Vediamo Devo portare qui Per fare Il biofuel Per inutility Ok Mi mancano Solo Un po' Di plate Me li faccio Tutti E ci dovremmo Essere Utility Select Milestone One Two 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 E via Ah Gli ho il pugno Ah no Gli ha dato il pugno Ok Già Mi sono ricordato Ora Che io nello special C'ho questo Space elevator Ok Mamma mia 1500 Wire 400 Rod E 250 Plate E 500 Oh mio Dio Oh mio Dio Niente Io lo voglio Fare Quindi nulla Io devo solo Aspettare Ah no È vero Wait Allora Qui ho sbloccato Questa roba nuova Provide a good overview Useful for buildings Ah Ah Vabbè Non la posso fare Oh Sta tornando la navetta Sì Figo 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 Io vado Su Ed è buono Perché così Si vede Biofuel Ah ok Che lo faccio Con il biomasse Ok Seems legit Adesso posso prendermi la mia chainsaw E mi sbaglio Tutti questi tasti Ok Quindi posso tagliare questo Oh 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 così levo un po' questi Che rompono i coglioni E con questa roba Io mi posso benissimo Fare Un bel po' di Biomasse Vediamo quando ho finito Ok Madonna Mi è venuto un bel po' di Biomasse Con questo Ci riempio Di nuovo Tutti I miei Ambaradam Per essere sicuro Che non avremo problemi Ok Ma io li voglio andare sopra Ok Ehm Mettiamo via Questo Rumori strani Allora Dicevamo Io Mi voglio mettere Add to list Ok Quindi Io mi tiro su Questo concrete Che c'ho qui Qua Madonna Fanno veramente veloce Quindi se vado a vedere Quelle del copper Pure quelli hanno fatto Ok Di qua C'ho quelli Della limestone Che ne dovrei fare Altri Ne ho messi solo due E me ne serve Cinquecento Non sembra tipo Tre stack Da cento Siano Sia proprio Cento Quindi Mi servono Cinque Stack Totali No Di più Se tre sono Cento Tre per Cinque Texter No dai No dai Non me ne servono Quel cazzo Sono a 263 però Allora Mi dispiacerebbe Un po' Ehm Fare Altri Portable Miner A parte Che Mi mancano I cavi Madonna Sono davvero Lentissimo Dovrei fare Un altro Dopo ci pensiamo Dai Ok Quindi Se io voglio avere Una produzione Un po' più veloce Lì ho un altro Slot libero Quindi potrei fare Un altro Constructor No Perché mi serve Il metallo Raffinato Cioè Quello L'iron plate Fico Ok vediamo E cosa 10 Madonna Che cazzo Sto facendo Allora Allora Qui rompe i coglioni Ma qui Qui no Però adesso Devo fare così Faccio tipo così Perché Questo ce la fa bene Questo ce la fa bene E questo ce la fa Più che bene Ok Quindi Devo fare così Oh shit Allora Allora si fa Così Quindi Un Due Tre E quattro Voilà Ok Quindi ora Abbiamo due Che mi creano I plate E quindi Avrò Almeno Raddoppiato I plate E dovremo fare Qualcosina Un po' più veloce Ora Me ne mancano 45 Iron Rod Le prendiamo dopo Vado a raccattare Di nuovo Il concrete Insomma Prendo un po' di roba E vediamo Un po' A quanto siamo Ok Allora Ho messo tutto lì In funzione Mi costruisco Guarda Posso fare due Portable Miner E me li faccio Tutte e due Così li porto Là dove c'è Ah lì hanno finito Quindi poi Devo li portare Così almeno Raddoppio La La quantità Di stone Che Facciamo Alleluia Voi Voi non potete capire Perché Per me Sono passate Praticamente è passato Più di un giorno Qui ho anche finito Tutto Devo rimetterci La roba Però per me Praticamente è passato Più di un giorno Niente Ce l'ho fatta Ho tutto quello Che mi serve Q Special Space elevator Porca Puttana Che stracazzo Di coso è Aiuto E io come Mi dovrei gestire Con quest'affare Dio Santissimo Ma tipo C'ha delle cose Che entrano What Da Minchia Lo infilo Sto coso Boh Io lo so Aiuto Non so Tipo Lo devo andare A infilare Là Qui Anche Lo posso Inficcare Non Non saprei Se potrebbe Rompermi Vabbè Sentite Io lo infilo Qui Ok Magari Da questa Parte Che c'ha Dei fori D'entrata Di qua E boom Che cazzo Ah più Vicino sto Più velocemente Si crea Ok E la Madonna Si apre un po' Male Prova bene Ma Che cazzo È Vabbè Che si chiama Space Elevator Ma che Stracazzo È What The actual Fuck Che cazzo È 50 Rotor 75 Reinforce Ironplate E GP Midgame Delivery Will Unlock Tier 3 Tier 4 Mando cose Tipo Ok Ok Mamma mia È Giganterrimo Questo Coso Potrei aver fatto Una cazzata A metterlo Qui Perché Magari La roba Mi va in là Mi potrebbe andare Però E sento che C'è l'entrata Di là E di qua Posso girare Tutto intorno Però Che cazzo Va bene Ok Niente Che dirvi E vi ringrazio Mille Per la visione Come sempre Spero che Questa Serie Vi stia Piacendo E nulla Noi ci vediamo Al prossimo Video Bar episodio Ciao Ciao Madonna Ciao